Buongiorno, iniziamo parlando dell'esame, che è sempre un ottimo argomento per ottenere il silenzio. Allora, a seguito di qualche mail che ho ricevuto negli ultimi giorni, ho deciso di fare un piccolo cambiamento all'esame, che spero possa essere apprezzato, ve lo direte, al massimo torniamo alla versione precedente. Dunque, voi ricorderete che l'esame è composto da queste tre parti. Era, in origine, il piano era di avere tre esercizi da sottomettere individualmente, ognuno dei quali valeva 4 punti per un totale di 12. Poi c'era un progetto di gruppo, che c'è ancora, fatto da tre o quattro persone, che in totale valeva 16 punti. E poi, il giorno dell'esame, una dimostrazione del vostro progetto e una discussione individuale su quello che avete fatto nel vostro progetto, che valeva altri sei punti. Questo era il piano originale. Il piano modificato a questo punto del corso, quindi ormai alla fine con due esercizi già consegnati, è questo, che secondo me potrebbe essere un piccolo cambiamento utile per tutti. Sparisce un esercizio, quindi non ci sarà il terzo esercizio fra due settimane. E di conseguenza la parte degli esercizi varrà 10 punti invece che 12. Il gruppo, il progetto finale rimarrà pesato uguale, l'ho già lievemente cambiato soprattutto per quanto riguarda i gruppi da 4, quindi la parte MQTT, che faremo oggi, mentre la dimostrazione e la discussione sarà sempre come prima, varrà sempre 6 punti, per un totale comunque di 32. Questo perché? Perché da alcune conversazioni con, non so se alcuni di voi qui presenti o assenti, mi sono reso conto che forse è meglio avere qualche ora in più per voi, qui con me, con me fisicamente qui, a lavorare sui vostri progetti piuttosto che fare un pezzettino ancora di MQTT che impatta poi solo i gruppi da 4 e una terza esercitazione. Quindi con questo cambiamento, se voi lo gradite, se no torniamo alla versione precedente o se vedete delle criticità, ditelo adesso, possibilmente, e con questo cambiamento oggi faremo la parte di MQTT in Java e la prossima volta fino alla fine del corso, quindi per 6 ore, faremo quello che nel calendario originariamente era chiamato lavoro di gruppo supervisionato. Nel senso che voi siete qui, potete lavorare ai vostri progetti finali, se avete domande, dubbi, curiosità, chiarimenti, potete chiederli, potete fare domande, chiedere e avere questi chiarimenti. Obiezioni? Rispetto a prima ci sono meno due punti. Rispetto a prima ci sono meno due punti. Sì. Come scritto nel progetto, no, non lo è messato però per i gruppi da 3. La parte di MQTT era prevista per i gruppi da 4, è tuttora prevista per i gruppi da 4, ma in maniera leggermente un pochino diversa rispetto a prima. Per i gruppi da 4, i gruppi da 3 non l'avevano neanche prima e continuano a non averla. Altre obiezioni? A parte, mancano due punti? Direi di no. Allora, procediamo con questo. Controllate il file del progetto finale che è già stato cambiato su DIR. Tutte queste informazioni sono già aggiornate su DIR. Come vi dicevo, il file del progetto finale è cambiato lievissimamente nel punto che riguarda l'MQTT per il gruppo da 4, perché MQTT invece di fare 4 ore, oggi e la settimana prossima, ne faremo solo due oggi su MQTT e quindi giustamente la parte della settimana prossima sparisce dal progetto finale per i gruppi da 4. I gruppi da 3 già non l'avevano e quindi non cambia niente per loro. Ok, queste sono le modifiche all'esame. Per i due punti mancanti rispetto a prima, fammi pensare se aggiungerli qui. sicuramente non in altre parti. Sì, in ogni caso qua è già 30 lode. Tutto giusto. Ok. I punti non mancano, nel senso che qua già arriva 30 lode, quindi ovviamente non è che uno arriva a 28. Rispetto a prima, prima arrivava a 34. Certo, ci penso. In ogni caso poi arriva a 30 lode, in ogni caso comunque, no? Bene. Ok, detto questo, quindi queste modifiche sono già su DIR e il calendario è già aggiornato anche su DIR. Quindi dalla prossima volta io porterò qui i Raspberry e vi farò anche vedere dove sono, in modo che voi possiate lavorare i vostri progetti ed eventualmente anche lavorare sui Raspberry con i vostri progetti. Sì. Rifai la domanda? I Raspberry, come tutto il materiale di questa università, è disponibile solo per l'utilizzo all'interno dell'università. Questo vuol dire che voi potete utilizzarlo durante le ore di lezione, ma anche che, ragazzi per favore, ma anche che i borsisti che aprono il laboratorio nelle ore extra, sono autorizzati a prendere i Raspberry e a consegnarveli durante quelle ore. Quindi se il laboratorio, facciamo finta, domani si è aperto, voi venite domani, potete chiedere al borsista di prendere i Raspberry e utilizzarli. Però qui non potete portarli a casa. Questo è un vincolo dell'università. Per i Raspberry e per tutto il resto del materiale, ovviamente. Ok. Detto questo, parliamo di MQTT. Il professor Cerotte vi ha già parlato di MQTT a lezione? Può darsi, non lo so. In relazione a una lezione su MQTT? No. Ok. Ok. Allora, parliamo di MQTT. Facciamo un passo indietro. Voi sapete cos'è il meccanismo di Publisher Subscriber? Publisher Subscriber Versus Request Response. Non proprio. E reti. Protocolli di tipo Request Response, protocolli di tipo Publisher Subscriber. Protocolli di tipo Request Response. Li usate. L'abbiamo usato fino all'altra volta. Publisher Subscriber è un meccanismo diverso che facciamo un esempio un pochino più, molto terra terra. Quello che stiamo facendo qui è come se utilizzassimo un'architettura Publisher Subscriber. Io sono il publisher che parla e voi siete il subscriber che in teoria potreste ascoltare quello che dico e decidere di fare quello che volete con le informazioni che vi arrivano. Quindi Publisher Subscriber c'è della gente che pubblica, delle cose che pubblicano e dei subscriber che sottoscrivono alle conversazioni dei publisher e in base alle informazioni che ricevono o che ascoltano decidono di fare alcune operazioni o meno. MQTT è un protocollo di tipo Publisher Subscriber. che è molto adatto per il mondo IoT perché è molto leggero, è molto snello come protocollo ed è molto semplice. E vabbè, al di là del fatto che siete inventato nel 99 da un signore, da due persone in IBM e che adesso la versione 3.1.1 è anche uno standard, l'architettura di MQTT è questa. È un'architettura, come vi dicevo, semplice. C'è, esemplificando nel mondo IoT, qualcosa tipicamente dei sensori che pubblicano informazioni. Sensori veri, sensori virtuali, non importa. Pubblicano delle informazioni. Quando gli pare. Sessore di temperatura a 21 gradi, 20 gradi, 19 gradi, ogni minuto, ogni 5 minuti, ogni ora. Non è un problema del protocollo, è una scelta del sensore. Queste informazioni vengono pubblicate indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno che poi le ascolta o che le voglia utilizzare in quel momento o in qualunque momento in futuro, quelle informazioni. Queste informazioni vengono pubblicate a un oggetto che sta in mezzo a questa architettura che si chiama broker. Il broker è il punto cardine dell'architettura MQTT e riceve tutte le informazioni che i vari publisher nel tempo possono inviare. Quindi abbiamo uno o più sensori di temperatura che pubblicano la propria temperatura, per esempio, a un broker. A questo broker poi si sottoscrivono alcuni subscriber, da zero a infinito. Quindi i subscriber dicono, per esempio il laptop dice a me, io sono interessato alla temperatura che viene pubblicata. E allora non si sottoscrivono, non sanno chi pubblica quella temperatura, ma sono interessati al dato, all'informazione sulle temperature, che gli viene passato quando disponibile dal broker. Quindi tutti questi elementi, tutti chiamiamoli client, sia il sensore di temperatura che il laptop, che il device mobile, sono unicamente a conoscenza del broker. Non conoscono nessun altro componente di questa architettura. Quindi a un certo punto il sensore di temperatura pubblicherà un dato, il broker lo manderà ai sottoscrittori che sono interessati a ricevere quel dato, che potrebbero in quel momento essere tutti o essere nessuno, o essere un sottinsieme. Questa è l'architettura di base. E quindi ha tre componenti. Un publisher, 0 più publisher, 0 più subscriber e un broker che gestisce e inoltre i messaggi, le informazioni. MQTT utilizza TCP per trasmettere le informazioni, per scambiare i dati e ha come punto, appunto, centrale di comunicazione questo broker che, come vi dicevo, ha l'obiettivo, ha lo scopo principale di ricevere i messaggi tra i publisher e i subscriber e inoltrarli dal publisher giusto al subscriber giusto. Il publisher è quel client che invia uno o più messaggi nella sua vita e il subscriber invece è quello che riceve questi messaggi. Ogni messaggio ha un topic associato e quindi il publisher, quando dice io voglio inviare la temperatura, la invia secondo un certo topic. E ogni subscriber può ascoltare a uno o più topic. Possono esserci ovviamente publisher che pubblicano su un topic e subscriber che non ascoltano quel topic e semplicemente i loro messaggi rimarranno lì o verranno cancellati in base alle impostazioni effettuate. Come vi dicevo, i publisher e i subscriber non conoscono la loro esistenza ma tutti conoscono l'esistenza solo del broker e ovviamente dei topic che sono associati, che sono gestiti eventualmente da quel broker. E quindi in MQTT noi abbiamo tre livelli di decoupling. Uno decoupling spaziale in cui i publisher e i subscriber non si conoscono, non hanno bisogno di conoscersi, non hanno bisogno di conoscere i loro indirizzi IP, non hanno bisogno di conoscere la loro porta, non hanno bisogno di conoscere niente l'uno dell'altro, nemmeno se esistono, se ci sono in quel momento, uno temporale per cui i publisher e i subscriber possono essere connessi in tempi diversi, il publisher può essere connesso stamattina e i subscriber oggi pomeriggio e in alcuni casi ricevono i messaggi e anche di sincronizzazione ovviamente, proprio perché non è necessario che siano sempre connessi e sempre sincronizzati l'uno con l'altro. Il topic, che è l'elemento forse più importante di MQTT, è quello che accompagna ogni messaggio, lo caratterizza, ed è, diciamo, le informazioni di routing del messaggio per i broker, perché il broker in base al topic che riceve dai publisher sa poi a quale subscriber inviare quell'informazione e in MQTT il topic è una stringa, è una stringa UTF-8, semplicemente, che può avere più livelli gerarchici separati da uno slash. Quindi, per esempio, se noi avessimo un sensore di temperatura in un salotto, potremmo avere come topic di quel sensore di temperatura che pubblica i dati home, living room, temperature. Questo è un topic valido, è un topic su tre livelli, c'è il livello home, che è il livello più generale, c'è il livello living room, che è un livello secondario, che identifica la stanza, e poi c'è il temperature, che identifica il tipo di dato. Questo topic è composto a piacere dallo sviluppatore, non ci sono regole di composizione. Qualcuno utilizza un'architettura tipo REST, qualcuno no. In questo caso, per esempio, utilizza per i primi due livelli una gerarchia spaziale, la casa, la stanza, e poi come ultimo elemento il valore che si intende passare. La temperatura, l'umidità, la presenza, qualunque altro che riguarda il living room, che appartiene a una specifica casa. e i subscriber hanno bisogno di sapere l'indirizzo del broker e il topic o i topic a cui devono sottoscriversi e ogni subscriber può sottoscrivere sia il topic esatto, io sono interessato ai messaggi di home, living room, temperature, oppure possono usare una wildcard. Io sono interessato a tutti i messaggi che arrivano da home. Io sono interessato a tutti i messaggi che arrivano da home, living room. non importa se poi sono temperatura, umidità o quant'altro, ma tutti i messaggi di quella stanza o di quella casa. Le wildcard sono due in MQTT, il più è il cancelletto, il più indica una wildcard per un singolo livello, quindi per esempio home più temperature, quindi se un subscriber si sottoscrive a questo riceverà tutti i messaggi di temperatura, della casa e qui ci può essere in questo livello intermedio living room, kitchen, lobby, una qualunque stringa, l'importante è che sia un livello. Quindi riceverà home living room temperature, ma riceverà anche home kitchen temperature, mentre non riceverà home living room humidity, perché ovviamente la wildcard è solo nel secondo livello gerarchico, mentre il cancelletto serve per rappresentare più livelli gerarchici, da uno in su, non importa quanti siano. Quindi per esempio in questo caso, in quest'ultimo caso, in home slash cancelletto, un subscriber riceverà tutti i topic che hanno come root del topic home. Quindi home living room temperature, home living room humidity, home living room slash qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Anche con molti più livelli di tre. Tutti quelli che vanno da qui in poi. Al di là dei topic e del publisher subscriber, MQTT poi definisce altre proprietà, che sono diciamo facoltative, ma che possono essere utili. Allora giusto per vederle, definisce un quality of service. Tre livelli di quality of service, il livello 0, il livello 1 e il livello 2. Notate che MQTT definisce questi tre livelli, ma poi ogni client, siano essi publisher, siano essi subscriber, può definire altri meccanismi per preservare la qualità del servizio. Può utilizzare dei meccanismi di persistenza, può richiedere le informazioni, indipendentemente da questi. Per sua scelta, al di fuori diciamo del protocollo. Ma il protocollo definisce tre livelli di quality of service. Il livello 0 è il livello base, più semplice, si affida a TCP e spera che il messaggio gli arrivi almeno una volta. Infatti il livello 0 si chiama At Most Once Delivery, al più una volta. Il livello 1 è almeno una volta. Nel senso che il receiver, il ricevitore, riceverà il messaggio almeno una volta, ma potrebbero riceverlo due, tre, quattro, cinque volte, perché c'è un meccanismo di rinvio e con questo livello della qualità ci sono, possono capitare messaggi duplicati. Mentre il livello 2 è il livello di qualità di servizio più alto che, tutti basati sul TCP ovviamente, che cerca di assicurare la delivery del messaggio esattamente una volta attraverso un handshake a quattro step. Questo ovviamente aumenta l'overhead di comunicazione, perché ci sono più messaggi che vengono scambiati avanti e indietro, mentre il livello 0 praticamente non ha overhead di comunicazione. Ma ci possono essere messaggi persi. Dipende molto dalle condizioni. Se un publisher fosse un sensore su una strada di montagna, probabilmente il livello 2 sarebbe problematico. Però se c'è bisogno di avere una certezza assoluta di quali dati ricevere, allora c'è bisogno per forza del livello 2, perché con gli altri livelli ci si può perdere qualcosa. O nel caso del primo, del livello 1, ci possono essere informazioni duplicate. E quindi bisogna gestire quel caso. Dopodiché MQTT, oltre alla qualità del servizio, definisce altre tre opzioni. La prima si chiama ultime volontà e testamento. LWT. È un messaggio specifico che viene specificato, viene creato da un publisher quando si collega per la prima volta a un broker. Imposta, crea il suo testamento, le sue ultime volontà. Che come dice il nome, voi potete immaginare, questo messaggio viene poi inviato ai subscriber quando il publisher muore in maniera brutale, in maniera non corretta. Quindi, a un certo punto, il publisher muore e ha definito un testamento, un messaggio di ultime volontà, il broker comunica a tutti i subscriber a cui, che ricevono messaggi da quel publisher, che il testamento di quel publisher è un messaggio, un messaggio di testo. L'altra opzione sono i messaggi persistenti. Quindi, un messaggio viene inviato come persistente nel broker per un topic specificato. Quindi, ogni volta che un nuovo sottoscrittore si sottoscrive a quel topic specifico, se il topic prevede dei messaggi persistenti, questo sottoscrittore riceve l'ultimo messaggio persistente che è stato mandato su quel topic. Non importa quando è stato mandato quel messaggio, anche se fosse stato mandato una settimana prima. Lui riceverebbe comunque quell'ultimo messaggio. Se non ci fosse questa configurazione, lui non riceverebbe niente finché un publisher non pubblica qualcosa su quel topic. E infine, ci sono due tipi di sessioni, la sessione clean e la sessione durable, che a ogni connessione il client può impostare. La sessione clean capita quando tutte le sottoscrizioni sono rimosse quando un publisher si disconnette. Mentre la sessione durable, quando un client si disconnette, tutte le sottoscrizioni che ha rimangono e i messaggi di qualità di servizio 1 o 2, non quelli 0, sono memorizzati nel broker in modo che quando si riconnette in futuro gli vengono rimandati. Queste sono le opzioni principali di MQTT. Ci sono poi altre opzioni che non sono riportate qui, per esempio è possibile utilizzare un protocollo sicuro invece che TCP e e così via. Ora, mentre i publisher e i subscriber sono oggetti che per forza di cose o meglio, che possono essere creati e personalizzati perché il publisher deve inviare informazioni su un certo topic e il subscriber deve riceverli, i broker MQTT sono oggetti che invece vengono installati, esistono già, si installano e si utilizzano. Allora, principalmente ci sono tre grossi broker MQTT e qui usciamo dalla parte di protocollo e andiamo su una parte un po' più pratica che sono questi. C'è Mosquito di Eclipse, c'è Hive MQ e c'è un prodotto IBM. Sono tutte e tre broker MQTT, tutte e tre supportano MQTT 3.1 3.1 1 che è lo standard Eclipse Mosquito è open source è scritto in C ed è molto leggero, molto appropriato anche per un utilizzo su Raspberry e quant'altro. Gli altri sono prodotti un pochino più complessi, quello dell'IBM è pensato da un punto di vista commerciale. Ma tutte e tre implementano MQTT e forniscono tutte le implementazioni del broker MQTT. Noi oggi nel fare un esempio useremo Eclipse Mosquito come si installa Mosquito sui sistemi Linux probabilmente con apt-mino-get o con YUM o con qualunque altro gestore di pacchetti è già disponibile una versione di Mosquito per Windows si può scaricare dal sito di Mosquito e si installa e si fa partire inoltre Mosquito mette a disposizione delle versioni di test del broker disponibili su internet all'indirizzo test.mosquito.org quindi senza installare niente è possibile inviare messaggi a un broker e vedere se arrivano a un subscriber di quei messaggi e questo è il broker il broker è essenziale deve esistere prima dei publisher e prima dei subscriber dopo di che ci sono una serie di librerie e di tool che possono agire sia da subscriber che da publisher in particolare io ho riportato qui tre ho riportato qui tre librerie per molteplici linguaggi che vi permettono di creare sia dei publisher che dei subscriber c'è ovviamente dato che c'è Mosquito come prodotto Eclipse c'è anche una libreria Eclipse che si chiama Pao che è un insieme in realtà una famiglia di librerie che è quella che useremo oggi che sono client molto popolari e sono disponibili in molti linguaggi di programmazione in Java in C Sharp in JavaScript e così via dopodiché ci sono altre due librerie che sono abbastanza utilizzate una si chiama M2MQTT che è realizzata unicamente per C Sharp per il mondo .net e poi c'è questo Fuse Source che è di nuovo è un client Java che ha diversi tipi di API e quindi è un pochino più complesso rispetto agli altri due più elaborato rispetto agli altri due però è solo Java Pao è ovviamente un'implementazione open source del protocollo si può scaricare dal sit clips.org slash Pao come vi dicevo è disponibile per molteplici linguaggi di programmazione e l'ultima versione è la 1.2.1 e noi la installeremo come l'abbiamo sempre installata con Gradle come abbiamo sempre installato le altre dipendenze con Gradle e quindi org.clips.pao e il gruppo ID l'artifact ID è org.clips.pao.client.mqtt.v3 perché è mqtt3.x e poi la versione specifica della libreria che è la 1.2.1 e l'equivalente Mave inoltre oltre a delle librerie ci sono anche dei tool con cui si può utilizzare si può provare senza programmare io qui di nuovo ne ho riportati tre che non useremo in maniera particolare magari l'estensione di Chrome il primo è un'applicazione in JavaFX per creare Publisher e Web subscriber quindi un'applicazione stand alone desktop per Windows MacOS e Linux sapete cos'è JavaFX? sapete cos'è questo JavaFX? JavaFX è chiamato anche JavaFX è quello che secondo Oracle dovrebbe rimpiazzare Swing in Java per creare applicazioni grafiche ed è incluso dalla JDK 8 o meglio è incluso nella JDK 8 e 9 e poi dalla JDK 10 in su separato e serve per creare interfacce grafiche e le Windows Presentation Foundation invece l'avete presente? no ok è è è un modo di creare applicazioni grafiche che separa come come appare l'interfaccia in un file XML quindi quali componenti ci sono dalla parte di codice separa diciamo il controllore dalle viste le viste vengono delegate a un file XML pseudo XML mentre il controllore gestisce giustamente le chiamate dei bottoni eccetera e quello appunto che dovrebbe rimpiazzare Swing in Java per la creazione di applicazioni grafiche in Java ed essendo in Java è multipiattaforma vabbè e quella è un'applicazione quindi se avete Java installato quell'applicazione dovrebbe funzionare senza nessun problema il secondo MQTT Spy è invece un utility sia desktop che da command line per ispezionare i messaggi di attività su MQTT dato un certo topic mentre l'ultima MQTT lens è un'estensione un'applicazione per Chrome che serve per connettersi a un broker o come publisher o come subscriber quindi permette di sperimentare con il mondo MQTT senza dover creare a mano via codice un publisher e un subscriber ok poi le slide terminano con una serie di reference e che possono esservi utili e adesso quello che vorrei fare è provare con voi a realizzare il publisher un publisher che pubbliche su un certo token un certo informazione un certo dato utilizzando PAO in Java poi potremmo utilizzare sia l'estensione di Chrome per esempio per sottoscriverci a quelle informazioni e vedere cosa succede oppure creare a mano di nuovo con la stessa libreria un subscriber però giusto per riassumere di base MQTT prevede dei publisher e dei subscriber i publisher pubblicano informazioni diciamo quando gli pare secondo un certo topic che definiscono loro e i subscriber si sottoscrivono a uno o più di quei topic attraverso la conoscenza di un broker che da una parte riceve le informazioni pubblicate dall'altra inoltre e fa il dispatch delle informazioni che riceve verso i subscriber che sono interessati e ognuno ha conoscenza solo del broker i client siano essi publisher o subscriber non si conoscono l'un l'altro in nessun modo non sanno se esistono non sanno quando esistono eccetera ok tutto chiaro domande? ok allora come prima cosa ci serve il broker allora io ho già installato il broker quindi lo faccio solo partire e proprio moschito il broker si pubblica su un computer su localhost ovviamente su TCP come protocollo sulla porta 1883 la porta di default è 1883 a questo punto possiamo per esempio aprire Chrome e installare questa estensione questa applicazione che si chiama MQTT Lens che permette di collegarsi a un broker e può sottoscrivere o pubblicare dei topic forse ok quindi noi possiamo provare a chiamiamola RETI2 possiamo collegarci su TCP all'indirizzo 127.0.0.1 la porta è 1883 tutto il resto possiamo lasciarlo così com'è non abbiamo bisogno di credenziali in questo momento non impostiamo vedete qui vi permette di impostare o meglio non so se vedete ma qui vi permette di impostare un last wheel topic un last wheel message e anche la qualità del servizio specifica del last wheel se volete e altre impostazioni quindi creiamo la connessione e qui attraverso questo form vi permette di sottoscrivere dei topic a vostro piacere al netto che il broker li gestisca già con la loro qualità di servizio 0.1.2 oppure di pubblicare qualcosa su quegli stessi topic se vi siete sottoscritti a qualche topic sulla parte inferiore di questa schermata vi compariranno i vari messaggi che il topic che riceve che il broker invierà a questo sottoscrittore ok questo proviamo a lasciarlo aperto e apriamo IntelliJ quindi utilizziamo l'applicazione di Chrome per come subscriber e proviamo a pubblicare qualcosa noi attraverso PAO quindi creiamo un nuovo progetto sempre un progetto Gradle che chiamiamo per esempio mqtt intro come il solito come il solito niente niente poi sempre come il solito nel nostro build.gradle possiamo andare a inserire l'istruzione per aggiungere la dipendenza di PAO e a questo punto possiamo creare un nuovo package e una nuova classe e dato che facciamo vogliamo fare un publisher possiamo chiamare la nuova classe mqtt publisher in modo che se volessimo fare un subscriber potremmo poi creare una classe che con estrema fantasia si chiamerà mqtt subscriber esatto con PAO si creano sia publisher che subscriber in maniera abbastanza simile tra l'altro quindi in questa classe creiamo un main che ci servirà a un certo punto per provare il tutto e creiamo un costruttore di questo mqtt publisher allora cosa dovrà fare l'mqtt publisher l'mqtt publisher dovrà creare un client un client generico che può essere publisher può essere subscriber nel nostro caso funzionerà da subscriber ma è un client definito da PAO collegarsi a un broker che è quello che abbiamo lanciato in locale pubblicare definire un topic e poi pubblicare un messaggio su questo topic queste quattro operazioni quindi prima di tutto ci serve un client il client possiamo definirlo qui ed è un mqtt client che è un cliente Ok, non si era installato, c'era uno spazio di troppo all'inizio della stringa. Quindi ci serve un client che è il nostro punto di contatto con il mondo MQTT, quindi per pubblicare o sottoscrivere informazioni, nel nostro caso per pubblicarle. A questo punto nel nostro costruttore andremo a dire che questo client è un new MQTT client. Questo MQTT client ha bisogno di due informazioni, ha bisogno di una URL e ha bisogno di un client ID. Lui chiama server URI e client ID. Il server URI è il broker e client ID invece è un ID che il client, quindi che il nostro publisher, può generare. Quando vi dicevo che ci sono i messaggi ritenuti, i messaggi persistenti, i messaggi vengono ritenuti, rimangono persistenti per un client e vengono riferiti a quel client se la volta dopo si riconnette con lo stesso client ID, con questo stesso client ID che definisce. Allora, noi ovviamente non abbiamo una URL che si chiama URL, un client ID che si chiama client ID, anche se potrebbe essere, non è molto fantasioso. Come URL possiamo appunto mettere la URL del broker, fatemela mettere in una variabile così non va troppo in là la riga, chiamiamola broker URL, che è TCP, due punti, localhost 1883, quindi qui mettiamo il broker URL, e come client ID, MQTT client ci fornisce un metodo per generare dei client ID che sono basati sul nome utente di login della macchina, che sta facendo partire il processo, e il tempo di sistema, quindi lo genera automaticamente al primo avvio secondo queste due caratteristiche, che chiamiamo client ID, ed è un MQTT client punto generate client ID, vedete questo MQTT client ha solo un metodo praticamente oltre class e new che si applica prima, che è appunto generate client ID. Questo genera già un client ID secondo queste due caratteristiche, che è il nome utente dell'utente collegato, che ha fatto login della macchina, e il tempo di sistema della macchina che sta facendo partire tutto. e quindi qui come client ID possiamo mettere questo client ID. Ora, questo MQTT client si lamenta ancora perché dice che c'è un'eccezione non gestita e quindi gestiamo l'eccezione in maniera semplice, MQTT exception. e per esempio facciamo print stack trace. E questo è il nostro costruttore, costruisce il publisher creando un client che si riferirà a una certa URL e a un certo client ID, con un certo client ID. Quindi, nel nostro main, noi cosa faremo in questo momento? Possiamo sicuramente creare un oggetto di tipo MQTT publisher, che possiamo chiamare publisher, che chiamerà questo costruttore, che abbiamo appena creato, che a sua volta creerà un client MQTT per un certo URL, per un certo client ID, e poi dovremo fare qualcosa con questo publisher. Qualcosa che non abbiamo ancora scritto, ma dovremo fare un qualcosa. Allora, qual è lo scopo del publisher? Lo scopo del publisher è quando ha un'informazione, deve inviarla su un certo topic, in base all'informazione che ha, se ne ha più di una, per il broker che abbiamo identificato nel costruttore. Quindi, per esempio, potremmo avere un metodo start, che fa partire il publisher. Allora, questo metodo start, vediamo se ce lo genera. Questo metodo start, nel nostro caso cosa farà? Nel nostro caso prenderà un dato, inventerà un dato, potrebbe essere un dato di temperatura, lo metterà su un certo topic, a sua scelta, e lo pubblicherà. Ora, se questo fosse il publisher, che è collegato davvero a un sensore, come quelli che abbiamo visto, con un sensore Z-Wave, cosa farà questo metodo start? Questo metodo start farà polling verso la rete Z-Wave, ogni quanto vuole, prenderà quell'informazione dalla rete Z-Wave, attraverso i metodi che abbiamo visto, e ogni volta che avrà un dato nuovo, manderà un nuovo messaggio. Noi ovviamente non ci colleghiamo in questo momento con un dispositivo vero, quindi ci inventiamo nelle codice R-Coded un dato di temperatura, per esempio, che sarà sempre uguale, ogni volta che avrà eseguito questo programma. Però diciamo che la parte, al di là dell'invio MQTT, è quella di recupero i dati da un sensore, secondo il meccanismo, secondo il protocollo che quel sensore parla, secondo quello che il sensore ci permette di ottenere, e lo inviamo come publisher a un broker. La prima cosa che dobbiamo fare è collegarci al client, quindi client si inizializza con una URL del broker e un client ID, ma non si nega ancora, in questo start effettuiamo davvero la connessione a questo broker con quel specifico client ID. Per collegarci basta chiamare su questo client, è definito prima il metodo connect, il metodo connect, come prima, può lanciare un'eccezione che bisognerebbe gestire in qualche modo, e a quel punto dopo esserci collegato possiamo, per esempio, pubblicare qualcosa, cosa, quindi potremmo chiamare un metodo, temperature, potremmo per esempio chiamare un metodo, che in questo momento è qui sotto, che pubblicherà temperatura. Quindi questo metodo start di base si collega e poi cerca di pubblicare qualcosa. Questo cerca di pubblicare qualcosa lo facciamo in un metodo a parte, per chiarezza in questo caso. Questo metodo connect, se noi volessimo, può accettare delle opzioni. Quali opzioni? Beh, la qualità del servizio, il fatto che la sessione sia clean oppure no, il testamento, sono tutte opzioni che si passano nel momento in cui, in questo caso il publisher, si collega al broker. Allora, per esempio, proviamo a settare una sessione non clean e mettiamo un messaggio di testamento, giusto per vedere come si fa. Allora, con PAO c'è un oggetto che si chiama connect option, quindi mqtt connect options che dobbiamo importare che al suo interno ha alcune proprietà che sono le proprietà del protocollo da settare. Quindi per esempio option ha un set clean section, un set connection timeout, un keep alive, un set mqtt version, nel caso uno volesse specificare la versione specifica, la versione particolare di mqtt da utilizzare, se uno non volesse utilizzare per qualche motivo la 3.1.1, ma volesse utilizzare la 2. qualcosa, la 5 o quant'altro, una password e altre informazioni, SSL, username, set will, eccetera. noi possiamo per esempio settare una clean section, una clean session a false, quindi vogliamo una sessione persistente, durevole, e possiamo settare un testamento, un will. allora il will cosa vuole? Vuole un topic, un payload di tipo byte, un intero che identifica la qualità del servizio e un boolean che identifica se il messaggio deve essere retained oppure no. quindi prima di tutto creiamo un topic il topic può essere una stringa oppure si può creare attraverso l'oggetto client per esempio creiamo attraverso l'oggetto client quindi client get topic chiamiamola home slash lwt che è la sigla per last will and testament in modo che questo publisher pubblica i suoi last will a quello specifico topic che è abbastanza tipico e poi vuole il payload che è il messaggio di last will che potrebbero essere collegati a qualcun altro ho cambiato non c'è più questo topic pubblicato ho cambiato topic se vuoi queste informazioni collegati a un altro topic oppure sono morto quindi io ero l'unico che pubblicava home temperature adesso non c'è più nessuno che lo fa quindi client subscriber fai quello che vuoi eccetera e noi per esempio potremmo fare una cosa un po' più semplice giusto per è una stringa il payload quindi potremmo dire I'm gun buy poi vuole una qualità del servizio e un boolean che identifica se la sessione è retained oppure no se il messaggio è retained oppure no quindi il topic il messaggio la qualità del servizio è retained ora setwill vuole un payload come un array di byte quindi una stringa non è nativamente un array di byte quindi dobbiamo prendere i byte c'è un metodo che si chiama get bytes che data una stringa ci restituisce l'equivalente in bytes della stringa quindi da quella stringa chiamando get bytes riempiamo il payload in maniera corretta per mqtt il publisher dall'altra parte il subscriber dall'altra parte quando riceverà il il lastwill entestment prenderà questa array di byte e lo riconvertirà in stringa in maniera corretta quindi abbiamo impostato una sessione abbiamo impostato un setwill nel caso mai servisse a questo punto passiamo questo oggetto options al metodo connect quindi ci colleghiamo inviando tutte queste option come dicevo prima se noi volessimo impostarne altre basta di nuovo riempire con set automatico reconnect timeout eccetera 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 esattamente come abbiamo fatto per clean session e setwill quindi di nuovo ci si può connegare con il valore di default semplicemente con il metodo connect oppure definire queste opzioni attraverso questo oggetto mqtt connect option e impostare alcuni parametri parametri come setwill che sono più propri del publisher e altri parametri che invece possono essere definiti sia da un publisher che da un subscriber quindi definiamo i parametri ci colleghiamo e a questo punto siamo collegati abbiamo un canale con il broker non sappiamo se ci saranno dei client abbiamo un canale con del broker e in questo canale che abbiamo aperto con il broker possiamo pubblicare per esempio la temperatura allora qui possiamo scrivere un metodo possiamo scrivere del codice per pubblicare la temperatura allora creiamo una stringa che si chiama message che sarà il nostro messaggio che per esempio è 20C 20 gradi centigradi che sarà la nostra temperatura che in questo momento noi scriviamo come messaggio di nuovo avessimo dei dispositivi collegati potremmo chiedere ai dispositivi qual è la temperatura e memorizzare in questa variabile message il valore ricevuto a questo punto dobbiamo definire il topic o recuperare il topic nel caso del client l'abbia definito in precedenza e poi pubblicare il messaggio sul topic con una certa qualità di servizio se vogliamo sapendo se il messaggio è retained oppure no eccetera in maniera molto simile a quello che abbiamo fatto per il last will quindi ci serve un topic ci serve un messaggio ci serve opzionalmente una qualità di servizio e ci serve opzionalmente un retained quindi queste stesse informazioni sono anche le informazioni che possono essere utili che possono essere impostate nella pubblicazione di un singolo messaggio allora il topic c'è come potete immaginare un oggetto che si chiama mqtt topic che ci permette in maniera simile a quello che abbiamo fatto prima di definire un topic per esempio il nostro topic potrebbe essere home temperature questo topic il topic in genere si definisce a livello magari globale dell'intero publisher in modo che se poi più metodi più ci sono più cose che pubblicano più porzioni di codici che pubblicano un elemento su un determinato topic questo topic venga sempre recuperato nello stesso identico modo e non scritto in ogni punto uguale però nel nostro caso ne abbiamo uno solo quindi possiamo lasciarlo lì definito allo stesso modo è comunque una stringa quindi impostiamo il topic prendiamo il topic nel client di questo tipo e abbiamo il nostro messaggio qui sopra e a questo punto pubblichiamolo un messaggio in MQTT con Pao si pubblica dall'oggetto topic fatemelo chiamare temp topic che è il topic della temperatura dall'oggetto topic abbiamo un metodo che si chiama publish ovviamente non c'è un metodo subscribe perché il subscriber si sottoscrive a un topic possiamo pubblicare quindi il messaggio quale messaggio è il nostro message di prima ma ovviamente anche questo non gli piace una stringa come payload ma vuole un insieme di byte con altre opzioni la qualità del servizio e quant'altro e quindi possiamo creare un nuovo MQTT message che avrà message punto questo MQTT message oltre al messaggio in maniera simile a prima il topic è già definito perché noi lo pubblichiamo a partire da un certo topic può avere una qualità del servizio e un'informazione se il messaggio è retained quindi virgola 0 se vogliamo impostare qualità del servizio 0 e virgola false o true se vogliamo impostare un retained a false o true di default la qualità del servizio è impostata 1 e il retained è impostato a false questo publish poi dà errore ancora perché invia può scatenare un'eccezione che stavolta la scateniamo tanto c'è un try catch prima che dovrebbe intercettarla dato che è lo stesso tipo di eccezione lo stesso tipo di eccezione che può lanciare il connect è della stessa famiglia è una MQTT exception è una generica MQTT exception quindi possiamo fare il true perché in questo catch dovremmo fare qualcosa di più furbo di questo ip e.print stack trace in modo da gestire correttamente l'eccezione invece di stampare solo lo stack trace nel caso in cui venga scatenata un'eccezione e questo chiude un publisher essenzialmente quindi poche cose crea un client si collega al client con delle eventuali opzioni che noi abbiamo impostato crea un topic su cui pubblicare le informazioni può anche crearne più di uno ovviamente e su quel topic pubblica un messaggio queste sono le quattro operazioni che un publisher fa aggiungiamo qui giusto per vedere che funzioni un print e che ci dica published message 2 punti il messaggio di prima io sto per vedere che arrivi lì correttamente quindi riassumendo nuovamente il nostro main in questo caso il nostro publisher farà due cose uno creerà un MQTT client un MQTT client indicando la URL del broker su TCP in questo caso localhost sulla porta 1883 e un client ID che viene autogenerato da MQTT client dopodiché avvierà la connessione aprirà la connessione con delle eventuali opzioni che noi qui abbiamo impostato ma non erano obbligatorie da impostare e inizierà dopo essersi connesso a inviare i dati da pubblicare nel nostro caso non abbiamo uno solo che è un dato di temperatura qui ci potrebbe essere un thread ci potrebbe essere un qualunque altro meccanismo che prende i dati da dei sensori veri o che riceve i dati dai sensori veri e impostando un topic e pubblicando da quel topic un messaggio che arriva da sensori lo invia al broker a questo punto eseguendo questo il messaggio dovrebbe essere arrivato al broker che semmai avrà dei subscriber lo inoltrerà ai subscriber ora proviamo a eseguire questo intanto per vedere che tutto funzioni che stai facendo allora fatemi fare così ok allora vedete che adesso nel mio caso io ho java 11 e mi lancia 5 warning con cui bisogna convivere perché sono un problema di java 10 successivo e la libreria PAO di cui gli sviluppatori di PAO sono consapevoli ma non hanno ancora agito ma sono warning che dicono che in futuro c'è questo accesso riflessivo illegale sarà vietato ma per ora viene ancora consentito e il nostro programma non stampa niente perché non lancia eccezioni né nient'altro ma stampa solo pubblicato messaggio 20c che è il nostro messaggio che abbiamo pubblicato prima ora se noi apriamo il nostro noi abbiamo un broker che è partito abbiamo questa estensione quindi potremmo sottoscriverci a home temperature che è il nostro topic e proviamo a rieseguire questo allora vedete che rieseguendolo magari non si legge molto ma qui sotto il topic home temperature è comparso una porzione che dice che alle 12.07 e 20 secondi sul topic home temperature con qualità di servizio 0 è arrivato un messaggio 20c che è esattamente il nostro messaggio quindi lui in questo momento agisce come subscriber noi abbiamo inviato un messaggio e questo messaggio è arrivato in maniera corretta se noi stopassimo questo e cambiassimo per esempio il messaggio in 21 e lo rieseguissimo senza toccare il broker senza toccare il subscriber noi possiamo vedere che qui sotto adesso è comparso un altro messaggio sullo stesso topic home temperature con la stessa qualità di servizio con un tempo diverso adesso sono le 12.08 con un messaggio che adesso è 21 gradi perché il nostro publisher ha pubblicato un nuovo messaggio lui non ha ovviamente alcun riferimento su chi sia questo publisher lui ha ricevuto dei messaggi su home temperature in maniera simile se noi qui invece di home temperature avessimo scritto home più quindi usato la wildcard o nel nostro caso home cancelletto avremmo comunque ricevuto entrambi i messaggi uno alla volta ok adesso prima di farvi vedere il subscriber in java che sarà molto simile al publisher facciamo 10 minuti di pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti